Squadra che vince non si cambia, ecco perché è sempre Back to Basic il messaggio al Sales Meeting Superga, K e Robi di K, Q1, Q2 2013, 5 e 6 giugno 2012, in strada della Cebrosa 106. Il 5, dopo il saluto del presidente di Basic Italia Elisabetta Rolando e il video speech Back to Basic Superga del presidente di Basicnet Marco Boglione, il Sales Manager Superga and Fashion Division Gianni Guy illustra collezioni, dati di vendita, target e strategie a CRS italiani e distributori esteri. Il Global Brand Manager Superga, Diego Ficili, mostra una sintesi di Happy Birthday Baby, approfondimento sui 100 anni del brand, meeting individuali nel pomeriggio e Basic Dinner Superga K la sera, in uno scenario con Mini Golf e Peugeot 107 Superga, K e Robi di K protagonisti del giorno dopo, identico al format con Elisabetta Rolando ad aprire lavori e video speech K di Marco Boglione. Presentato il nuovo Sales Manager K a Matteo Monaco, collezioni illustrate da Oliviero Vitale, Luca Musso e Roberta Bino, Francesca Boglione parla infine del marketing per i monomarca.